Colleghi a posto, colleghi attesti, saluto! Si è spento all'età di 65 anni Roberto Materia, ex sindaco di Barcellona Pozzorigotto e consigliere della provincia regionale di Messina. Da qualche tempo soffriva di una grave malattia. Sposato con due figlie, Materia è stato anche presidente dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e dell'ente regionale sviluppo agricolo, oltre che un apprezzato medico dontoiatra. A Barcellona Pozzorigotto è stato proclamato il lutto cittadino per oggi, giornata dei funerali. Profonda commozione per la scomparsa di un uomo molto apprezzato per le sue qualità, come la gentilezza e il profondo senso del rispetto. Tantissimi messaggi di cordoglio. Non si è mai pronti abbastanza per ricevere la notizia di un lutto prematuro, tanto più quando riguarda una persona alla quale abbiamo voluto particolarmente bene. Nell'esprimere profondo cordoglio per la perdita dell'ex sindaco, Roberto Materia, vice il consigliere comunale Ilenia Torre, non posso non ricordarne le spiccate doti umane, ancora prima dello spirito di servizio che ha contraddistinto la sua intera esistenza. Cordoglio per la scomparsa dell'ex sindaco anche da parte del coordinamento di Forza Italia di Barcellona Pozzo Digotto, coordinato da Lidia Pirri, che commenta A Roberto Materia mi legano sentimenti di profondo rispetto, stima e amicizia. Da consigliere comunale è stato un onore lavorare accanto a un uomo delle sue qualità. Il sindaco metropolitano, Cateno De Luca, esprime a nome della città metropolitana di Messina il cordoglio per la scomparsa del dottor Roberto Materia. A Palazzo De Leoni Materia aveva ricoperto importanti incarichi. Nel 2002 era stato presidente della provincia regionale facente funzione. Dal 98 al 2006 l'assessore alle politiche sociali, turismo, artigianato e bilancio. E dal 1994 al 1998 consigliere provinciale. La notizia della scomparsa di Roberto Materia mi suscita profondo dolore, afferma il sindaco De Luca, perché oggi perdiamo un politico competente e una persona sempre cordiale e disponibile. Porgo alla famiglia e a tutta la comunità barcellonese le più sentite condoglianze a nome della città metropolitana di Messina e a titolo personale.